Quali sono le delusioni di riferimento? Le delusioni di riferimento rappresentano un sintomo comune in persone con diagnosi di schizofrenia. I pazienti che manifestano questo sintomo potrebbero credere che i commenti neutri portino messaggi diretti a loro, che spesso si presentano in forme negative. Queste comunicazioni potrebbero provenire dalla televisione, dalla radio o dai pedoni per strada. I messaggi potrebbero anche provenire da oggetti o eventi senza base nella realtà. Oltre alla schizofrenia, i sintomi possono manifestarsi in pazienti con disturbo bipolare, disturbo depressivo maggiore e demenza. Le persone che sperimentano delusioni di riferimento credono assolutamente che questi messaggi siano reali, che potrebbero includere spunti non verbali provenienti da altri o parole reali. Potrebbero credere che l'unico scopo di un evento sia specificamente quello di rivelare a qualcuno una missiva. Se l'illusione riguarda un oggetto, gli schizofrenici potrebbero credere che sia stato messo lì appositamente per inviare loro informazioni personali, nonostante prove contrarie. Le delusioni possono essere collegate all'umore o considerate neutrali. Una depressione schizofrenica che soffre potrebbe interpretare delusioni di riferimento con un senso di rovina. Se il paziente soffre di un episodio maniacale, la comunicazione ricevuta potrebbe provocare un senso di invincibilità. Quando è in uno stato neutro, il paziente potrebbe pensare che i pensieri vengano messi nella sua testa. Uno studio ha rilevato un aumento dell'attività neurale in diverse parti del cervello quando si sono verificate delusioni di riferimento. I ricercatori hanno posto domande personali volte a produrre delusioni e misurato l'attività cerebrale attraverso la risonanza magnetica. I risultati della ricerca indicano che l'attività cerebrale aumenta quando i pazienti credono fortemente nelle loro delusioni. Domande generiche e impersonali non sono riuscite a provocare le stesse risposte. Le delusioni potrebbero concentrarsi su vari temi, con delusioni di persecuzione che definiscono il sintomo più comune legato alla schizofrenia. Questi pazienti credono che qualcuno voglia far loro del male quando non esistono prove. Potrebbero pensare di essere seguiti o spiati come parte di una cospirazione. Entrambe le delusioni di persecuzione e delusioni di riferimento cadono nella categoria di sintomi non bizzarri, definita come probabilmente non vera, ma possibile. Delusioni bizzarre potrebbero includere delusioni di controllo in cui il paziente crede che le influenze esterne controllino i suoi pensieri o le sue azioni. Il paziente potrebbe pensare che i pensieri possano essere ascoltati e manipolati da persone, alieni o forze reali o immaginari. Delusioni bizzarre non possono verificarsi o essere dimostrate scientificamente. Altre delusioni comuni legate a disturbi mentali includono delusioni di colpa e delusioni di grandezza. Uno schizofrenico potrebbe credere di essere responsabile di un evento negativo quando il paziente non ha nulla a che fare con esso. Lui o lei potrebbe sentire il bisogno di punizione per i peccati immaginari. Le delusioni di grandezza tipicamente danno al paziente un senso di notevole potenza o talento senza alcuna prova.